delle tipe le tipe le tipe con le foto le dette di fuori ma scusa non ce l'hai giù insieme in un party su whatsapp ma se ti dico no perché vecchio come me non c'ha non c'è nessuno di più ti amo ogni forma di con compi e che non c'è la città niente istagrano come cazzo si usa tutto 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 in verità gismi sa che tu facebook ce l'hai se l'aveva fatto con il gizzo si è vero ma ha fatto la pina forse no si ma se non usa mai come zangella a parte questo sta parlando di cent'anni fa tocca sempre a te gt ti sarà disattivato chi che ha da chi ha visto l'auto ma cosa uscite le carte ha lanciato ai date che vi lanciato tu ma no cazzi che ha preso questo il 46 io non dopo chi io non dopo appuntata vincendo troppo c'è deve continuare a puntare se mo vince lui ricordo le cose che c'è sempre bler lo vuol dire blefare ah si può fare io punto a cazzo anche se c'è delle carte di merda ah no io pensavo che raccomi adesso non ce l'ha no io pensavo che raccomi nella storia ti ricordi eh no qua qua non si può impegogliare non può finire a fucilare mamma mia bello che facevi il novello a mezzogiorno c'è un po' si è comprato anche la storia ti disti due non lo sapevo non lo sapevo guarda oh scala scala con 5 ma l'ho dall'ultimo all'ultimo cioè dimmi te se questo non mi è non mi è